Buongiorno dalla costa d'Amalfi, buongiorno da questo mare oggi tempestoso, agitato, arrabbiato, come credo tanti che ormai non riescono a comprendere quale possa essere questo futuro incerto ogni giorno, con disposizioni sempre nuove, con disposizioni sempre stringenti, talvolta addirittura incomprensibili. E mi viene adesso un quesito da porre, ma spiegatemi a che serve un'app Immuni che deve metterci in guardia, ossia avvisarci che c'è un positivo nelle vicinanze. Ma il positivo non doveva essere a casa in quarantena, beh, che ce lo spiegassero. Noi intanto con questo mare siamo così arrabbiati e irruenti, così in attesa di muoverci, di scuoterci, come quelle bandiere al vento, come il cielo che oggi ci rimanda acqua per lavarci, acqua per purificare. Con questo mare in forza, che ci rafforza, un buongiorno a tutti, un abbraccio dalla costa d'Amalfi, da Minori.